Denunciati dai carabinieri due uomini di Teramo, uno di 56, l'altro di 48 anni, già noti alle forze dell'ordine. I due, grazie a un raggiro, sono riusciti a ottenere da una donna di 41 anni di Monselice un versamento di 300 euro come caparra. La vittima aveva chiesto di poter affittare una casa in Grecia e i due l'hanno truffata prima di essere scoperti e denunciati al termine di un'indagine dei carabinieri.